Siamo arrivati al ventesimo capitolo, volume, alla basta. Daniele! Bello. Bello. Ti piace Crocodile? Ma te sicuramente Crocodile. Sto parlando del personaggio, non della droga. Senti, io non mi sono mai fumato una sicuretta con qualcuno che abbia questa distanza. Perché non vieni qua e ti siedi? Ci divide la sedia. Dai. Dai. Non avere troppa paura di... Chi è quello? Avete chiesto chi è quello? È Dani. Ci manchi, dico. Anche voi mancate. Anche voi mancate addetto se non si è sentito visto che ha aperto il telefono in quell'esatto momento. Che vergogna che non possiamo vedere il nostro sdrumox della notte. Puoi dirlo forte, che vergogna. Mi sento un idiota. Mi sento un'camino. No Mi sento. Grazie a tutti.